non già faccio questa volta non la mettono perché ci ha tolto l'audio ciao ragazzi questo è tutto raffa e siamo tornati su fai dead sonic che non facevo da oltre un ribarre due settimane e poi tra l'altro sono arrivato la quarta notte senza morire mai una volta no per dire ragazzi scommettiamo che che mo questo qui ci ha preso la corsa madonna ascoltami zio vedi guarda qui che sta scritto 12 am aspettate un attimo e poi partite porca perché non c'è la maschera sto gioco ho preso un colpo sto coso ma già parte ma che cazzo è la buona tattica che ho capito è guardare sempre sto tizio qui e quindi lo guardo il problema è che visto che ora non c'è più l'audio che cazzo è successo non lo so non posso vedere quando il tizio può ritornare dentro quando buzza col 7 a 9 per scendere non posso vincere svegli sta luce cazzo chiudi faccio così sto scherzando e cazzo parti chiudi ok sono le due forse mi salvo chiudi forse anche no spengli sta luce di merda cazzo chiudi la foto di ragazzi guardate qui no la prima mia morte sto gioco fantastico e poi anche non so se me siete accolti ma io mi fai dei freddy's 4 non sono mai morto manca una volta che poi che dovrò fare la nightmare mode che è la più difficile di tutti quanti 80 mila volte chiudi sonic che cazzo ci fai lì ma vaffanculo un attimo ma che cazzo ne so se ne è andato questo è la fine che cazzo posso continuare a giocare tanto ci guardate qui 25% prenditi tutto il tempo mi raccomando un bel jam scarrone la prima mia morte vaffanculo la batteria sta per finire è normale ma perché si è tolto l'audio vaffanculo cazzo perché si è tolto l'audio che è successo aspetta proprio a chiudere il gioco e a riaprillo ho bucato tutto non è neanche venuto questa scritta ah santo Gesù e questa suoneria me la sognerò anche la notte continuo ecco sette non sette la quattro non ce l'ho fatta anzi devi morire male io devo farlo che cazzo di quinta notte ma se non così appena arriva al 95% controllo subito quel coso li schiama rai al suo mi sbaglio se non ragazzi una cosa io è discostante così non ho mai seguito tanto Sonic non l'ho seguito tanto cioè sono solo il nome di questo qui e anche di quello lì rosso che non mi ricordo però molto bene cioè lo sapevo però me lo sono scuritato ma comunque non ho mai seguito tanto Sonic per questo non so il nome di questo qui molto bene chiudere ma non mi ha neanche dato il tempo vaffanculo cazzo ti odio ti odio ecco qui come morire parlando buon edetto i jumpscare di questi due è avuto mancano soltanto questi due qui che cose porca puttana sto per cliccare su new game io non mi rifaccio tutto quando a capo stai gitto abbiamo visto che al 92% chiudo la porta al 92% devo chiudere questa porta di merda un cupcake a caso che è questo gioco questo gioco è un gioco in disegno il piatto di questo gioco ha disegnato proprio l'ufficio guardate qui ha disegnato dai vai che culo cosa ho fatto madonna ecco ecco il turno del mattino basta non metto più il tavolo quando lo scendo facciamo così quando arrivo al 82% chiudo la porta lo farò così lo farò così ogni volta al 62% chiudo la porta così farò è una tattica è una tattica che dovreste usare pure voi apri nooo ero al 77% e sono andato al 74% e sono andato al 74% dai mario è un mozzo mario ecco tengo più apro e chiudo perchè ho aperto solo per dire apro e chiudo non dovevo aprire sono un coglione a caso ragazzi ci ho provato ci ho provato stavo scherzando faccio un altro rendativo ho bucato tutto avevo bucato il gioco e dai cazzo ma che ti bughi mouse del cazzo clicca 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 adesso cliccheremo tante volte insieme al mouse che non ci vuole vedere sul naso di sony e riesco a raggiungere il motore ok chiudi no 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 c'è una batteria qui allora c'è quando vai così ti spiega anche il batterio c'è una batteria ma batteria devo far ridere cosa è successo? cosa è successo? cosa è successo? è successo di capire la chiamata? è successo di capire la chiamata che cazzo è? che cazzo è? oh no ok mamma è successo di capire la chiamata è successo di capire la chiamata che cazzo è successo di capire la chiamata quindi ecco qui che farà ah non c'è sulla luce quando fa tam 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 che dà i pugni sulla porta ti sprega un casino di batteria in scia ma se già stanno 200 te morrisse il cugino due di notte in conclusione non se la farò mai quindi alle quattro di notte tendo oppure alle tre c'è adesso spudo a mario adesso spuderà vero? perché sei bastardo dov'è? ma dov'è? è mario qua qui dov'è mario? cosa? non c'è mai al 62% chiudo la porta 62 62 non mi frega volete scommettere? che avevo detto? mi frega ho chiuso la botta proprio mentre quello è rientrato d'accordo ragazzi? ci ho provato condivido nel prossimo episodio a finire questa notte è impossibile io non so come qualcuno possa aver finito questa notte è un suo puntaglio non lo so dunque se vi ha piaciuto un mi piace per questo bastardo qui e anche per questo che ha ucciso il fungi e noi ci vediamo nel prossimo video non ho provato questo Yoshi